Nei guai due fratelli imprenditori ad Angri, ritenuti responsabili dei reati di bancarotta e sottrazione fraudolenta al pagamento degli imposte. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocere Inferiore, i finanziari del Comando Provinciale di Salerno hanno eseguito il sequestro preventivo dei beni dei due fratelli fino alla concorrenza di circa 800.000 euro. Gli accertamenti delle fiamme gialle della compagnia di Scafati sono iniziati nel luglio del 2018, quando è stata dichiarata fallita una società di Angri, operante nel settore della fabbricazione di impianti elettrici per le industrie. Nel corso delle indagini è emerso che nell'ultimo biennio l'impresa aveva accumulato debiti con il fisco per diverse centinaia di migliaia di euro, che ne hanno causato il dissesto finanziario, quando in precedenza, solo nel 2015, vantava un attivo di quasi 1.300.000 euro. Nel ripercorrere le vicende societarie, i militari hanno scoperto che proprio per ostacolare la ricostruzione del patrimonio societario destinato alla liquidazione dei creditori insinuatesi nell'asse fallimentare, gli imprenditori avevano falsificato i bilanci e distrutto, comunque occultato, la documentazione contabile, svuotando in breve tempo l'azienda di tutti i beni. Tra questi, innanzitutto il denaro, fatto appositamente confluire su conti correnti personali o di società comunque riconducibili ai due, nonché una nuova e lussosa Audi A8L, intestata ad un vicino di casa, pur di impedire che venisse acquisita dallo Stato. L'esposizione debitoria risulta ancora più grave, spiegano i finanzieri, se si considera che è stato riscontrato pure l'omesso accantonamento del TFR, rispettante al personale dipendente, quantificato in circa un milione di euro. Sulla base del quadro probatorio, il GIP del Tribunale di Nocera, Gustavo Danizze, accogliendo le ipotesi formulate dagli inquirenti, ha emesso nei confronti dei due amministratori un decreto di sequestro preventivo, in esecuzione del quale i finanzieri discafati hanno cautelato un edificio di 15 vani ed un ampio opificio in uso all'azienda, un'autorimessa e tre appartamenti, per il valore complessivo di circa 800 mila euro. Se le accuse saranno confermate, i due rischiano una condanna fino a 10 anni di reclusione.